Ciao raga, oggi non siamo in un video così bello Purtroppo raga, è arrivato il momento Andrò in pensione del canale per dieci mesi massimo No, per cinque mesi questo canale andrò in pensione raga Purtroppo è successa una cosa personale che non posso spiegarvi, è troppo lunga Quindi questo è l'ultimo video che farò e tornerò fra sei mesi perché sarà in pensione con questo canale Spero che a qualcuno di voi vi sia riuscita qualche lacrime Oggi ci salutiamo e raga, ci vediamo a ottobre No, ci vedremo ad agosto Dopo agosto ci vedremo Io raga vi lascio un saluto e Addio Si addio Un saluto e raga Vi saluto io e ci vediamo ad agosto Ciao Ciao